Ricoprire i posti vacanti in tutta la Sicilia, questo l'obiettivo del maxiconcorso avviato sull'isola. Si tratta di 247 assunzioni a tempo indeterminato per anestesisti, ma per la prima volta possono candidarsi anche gli specializzanti del quarto e del quinto anno. Il bando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 gennaio e c'è tempo fino al 28 febbraio per presentare la domanda. Nel dettaglio i posti a disposizione nelle ASP sono 17 ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 22 a Catania, 15 ad Enna, 25 a Messina, 19 a Palermo, 16 a Ragusa, 26 a Siracusa e 3 a Trapani. Mentre per quanto riguarda gli ospedali ci sono due posti al Cannizzaro di Catania, 16 al Papardo di Messina, 10 al Policlinico di Messina, 4 a Villa Sofia a Palermo, 15 al Civico di Palermo, 16 al Policlinico di Palermo, 1 al Centro Neurolesi Bolnino Puleio di Messina. Il concorso è per titoli ed esami. I candidati dovranno presentare le domande esclusivamente via Pecca all'indirizzo indicato nel bando di selezione pubblicato sul sito del Policlinico Giaccone tramite l'apposita sezione dedicata alle procedure concorsuali. La commissione d'esame verrà nominata entro metà marzo. Le graduatorie saranno due, una per gli specialisti, un'altra per gli specializzanti degli ultimi due anni e chi rientrerà nei 247 posti potrà indicare una sola sede preferita tra quelle disponibili in base allo scorrimento. Gli specializzanti vincitori del concorso firmeranno inizialmente un contratto a tempo determinato che alla fine della specializzazione sarà immediatamente convertibile in contratto a tempo indeterminato.